L'ultimo addio di Achille Variati. Addio a Palazzo Nievo, addio alla provincia di Vicenza. Ma il presidente, prima di lasciare, tira un bilancio del suo regno, delle sue battaglie, ricordando i momenti belli e quelli brutti, su cui giura di essersi spezzato la schiena, perché sono stati quattro anni duri. Sono stati molto pesanti, perché il governo ha fatto dei tagli irragionevoli alle province. Pensi, nel 15, 15 milioni in meno, nel 16, 30 milioni in meno, che dovevano diventare nel 17, 45 milioni in meno, su un bilancio complessivo di 100 milioni, con oltre 1.200 chilometri di strade, tutto il sistema scolastico superiore, l'ambiente, i dissesti. Hanno fatto dei tagli irragionevoli. Tagli irragionevoli da parte del governo centrale, che però, ricordiamo, che in questi quattro anni è stato di centro-sinistra, lo stesso colore del partito di Achille Variati. Lui assicura però di aver resistito, di aver combattuto, finendo col farsi dei nemici, anche con le sue battaglie da presidente nazionale dell'Unione delle Provincie Italiane. Mi sono fatto anche delle nemicizie a Roma, sai, perché alla fine io amo dire pane al pane, e vino al vino, invece negli ambienti romani bisognerebbe essere più soft. Io non... per difendere la mia terra non ho guardato in faccia a nessuno. E questo mi ha prodotto qualche problema, ma non importa. Abbiamo portato a casa dei risultati importanti. E in effetti a Vicenza i risultati ci sono stati. Una riduzione del debito del 22%, un aumento degli investimenti da 5 milioni di euro a più di 33%, e un'operazione intelligente come l'aggregazione tra FTV e IM Mobilità, che ha dato vita a SVT, l'unica azienda che si occupa di trasporto urbano ed extraurbano, con 28 milioni di viaggiatori solo nel 2017. Insomma, al di là delle operazioni di facciata del governo Renzi, che hanno fatto credere che venissero cancellate, le province ci sono e restano un punto di riferimento istituzionale e amministrativo importante, anche se i servizi che sono chiamati a erogare sono stati seriamente compromessi dai tagli dello Stato centrale. La provincia ha ancora più importanza di prima, perché sta mantenendo, nonostante i tagli, tutte le competenze che aveva, ha assunto competenze delegate dalla Regione, le gara d'appalto a cui tutti sono soggetti passano dalla stazione unica paltante. La provincia è uno dei principali operatori in questo senso. Grazie! Grazie a tutti